Ethereum, la regina delle criptovalute, la prima altcoin per capitalizzazione subito dopo Bitcoin. In questo video scopriremo insieme come funziona, dove può arrivare e il suo potenziale subito dopo la sigla. Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Se non mi conosci piacere mio, sono Stefano Gabbenelli, sono un ex promotore finanziario, ora completamente dedicato al settore delle criptovalute. Prima di andare avanti è utile capire che tutto quello che vedrai in questo video è al solo scopo educativo ed informativo e non è assolutamente da intendersi come consiglio finanziario. Prima di dirti le mie opinioni su questa criptovaluta è utile per capire il tutto fare un attimino un accenno sulla storia della stessa. Il fondatore di Ethereum è il noto ragazzo prodigio chiamato Vitalik Buterin. Buterin è un programmatore e uno scrittore russo nato a Kolomna, una cittadina appunto della Russia, il 31 gennaio del 1994. Inizialmente si è avvicinato a questo mondo grazie al Bitcoin, notti e notti a studiare questa criptovaluta lo hanno portato a voler ancora di più. Ossia una criptovaluta non solo utile come strumento di scambio oppure di pagamento, ma anche una blockchain nella quale venissero realizzate delle DAP e nella quale potessero essere finalizzati dei contratti. All'età di soli 17 anni fondò una delle riviste più importanti nel settore delle criptovalute, il Bitcoin Magazine. Grazie a questa sua rivista e grazie ad alcuni forum che frequentava, conobbe diversi sviluppatori e diversi appassionati del settore delle criptovalute, con i quali ha condiviso la sua idea visionaria e da alcuni di loro è stata approvata e appoggiata. Quindi benché questa idea fosse di difficile realizzazione e completamente innovativa per quei tempi, la mise in atto. E infatti nel 2013 nacque il white paper di Ethereum. Tra i sviluppatori e programmatori che conobbe probabilmente ti saranno familiari Charles Hoskinson, ossia il fondatore di Cardano, e anche probabilmente Gavin Woods, il fondatore di Polkadot. Infatti lo stesso Gavin Woods nel 2014 scrisse il yellow paper proprio di Ethereum. Lo yellow paper nient'altro è che un documento tecnico che racchiude appunto gli aspetti tecnici del progetto. Da quel momento nacque anche la Ethereum Foundation, ossia la fondazione senza scopo di lucro che racchiude tutti gli sviluppatori di Ethereum. La prima sede dell'Ethereum Foundation fu a Miami, successivamente si trasferì a Zurigo in Svizzera. Il 20 luglio del 2014 diedero vita alla ICO di Ethereum, ossia la fase di raccolta fondi pubblica, l'Initial Coin Offering, la quale raccolse più di 18 milioni di dollari in controvalore in Bitcoin. Sapere il reale prezzo dell'SEO è praticamente impossibile, dato che la raccolta fondi è venuta unicamente in Bitcoin, ed aveva un meccanismo di raccolta un po' particolare, perché inizialmente con un Bitcoin si prendevano 2000 Ethereum, mentre man mano che la fase di SEO andava avanti, con lo stesso Bitcoin si è arrivato a prendere fino a 1337 Ethereum. Oltre a questo, chiaramente c'è da dire che Bitcoin non è una stablecoin, benché qualcuno insomma dica il contrario, e quindi il prezzo era molto volatile, oltre che era una fase di bear market in quel momento. Quindi il prezzo di Bitcoin valeva sempre meno, in parole poveri, quindi capire effettivamente il prezzo di lancio di Ethereum è praticamente impossibile. Una cosa però posso dirtela, subito dopo l'SEO, ogni Ethereum veniva scambiato per circa 30 centesimi di dollaro. E a pensare che al momento della registrazione di questo video Ethereum si trova poco al di sotto dei 3000 dollari, insomma, diciamo che chi ha partecipato a questa SEO ha fatto sicuramente bene. La prima versione di Ethereum, la prima blockchain di Ethereum, nata effettivamente nel 2015 con il progetto Olympic, aveva però una marea di bug, i quali sono stati corretti, e il 14 marzo del 2016 nacque Ethereum, come la conosciamo oggi. L'attuale meccanismo di consenso di Ethereum è in proof of work, quindi molto similare a quello che c'è su Bitcoin. Ossia, per validare le transazioni, per scambiare criptovaluta, per interagire con uno smart contract, bisogna convalidare le transazioni. Per convalidare queste transazioni c'è bisogno di risolvere un complesso algoritmo matematico, e per far ciò c'è bisogno di una grossa potenza computazionale, e solo dopo aver risolto questo arduo algoritmo matematico, allora la transazione può definirsi conclusa. Ora è proprio da questo che nasce qualche problemino. Il proof of work è ritenuto molto sicuro, e fino adesso lo è stato, però c'è diciamo un contro. Il primo aspetto è quello della parte energetica. Avere degli hardware importanti che consentano di elaborare questo complesso algoritmo matematico richiedono una quantità di energia davvero considerevole. E verso un mondo che tende più alla soluzione green, è sicuramente un aspetto da tenere seriamente in considerazione. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione, invece, è la velocità di transazione. Al momento la blockchain di Bitcoin riesce ad elaborare circa 5 transazioni per secondo. Per quanto riguarda la blockchain di Ethereum possiamo raddoppiare questo valore, ma è ancora poco se si pensa ad altre soluzioni di pagamento, come ad esempio Visa, che è in grado di elaborare 1500 oppure 2000 transazioni per secondo. Questo è un aspetto importantissimo se si vuole puntare ad una adozione di massa. Oltre che questo aspetto ha portato a degli elevatissimi costi di gas fee, ossia di costi per inviare le transazioni alla blockchain, perché dato che i validatori, ossia queste macchine che elaborano questi complessi algoritmi matematici, vengono incentivati in token Ethereum, quando finalizzano una transazione, gli stessi daranno priorità a chi utilizza importi di gas maggiori. Quindi questo comporta una gas war, ossia per finalizzare la transazione in un periodo di tempo accettabile, bisogna necessariamente aumentare i costi delle fee. Questo comporta una reazione a catena che nei momenti di intenso traffico il prezzo per pagare le gas fee possa davvero schizzare alle stelle. Prima di andare avanti facciamo un attimino una parentesi per quanto riguarda la tokenomics di Ethereum. Ethereum non ha una supply massima definita, ossia non c'è un numero massimo di Ethereum che possono essere creati, come ad esempio Bitcoin. Sappiamo bene che di Bitcoin ce ne saranno massimo 21 milioni. Per quanto riguarda Ethereum, questa supply non ha un tetto massimo, quindi potenzialmente possono essere illimitati. Questa supply aumenta perché questi Ethereum vengono dati anch'essi come reward per la validazione dei blocchi della blockchain. Al momento della realizzazione di questo video ci sono circa 120 milioni di Ethereum in circolazione. Ora capito questo aspetto possiamo proseguire. Abbiamo capito che Ethereum è una moneta inflazionaria, ossia non ha una supply ben delineata. Abbiamo capito inoltre che il proof of work è sì sicuro, ma allo stesso tempo è lenta la validazione delle transazioni, quindi i scambi o le interazioni con i smart contracts e consuma molta energia. Per risolvere queste problematiche, Ethereum si è sicuramente data da fare, non è stata a guardare. Infatti una delle soluzioni che attualmente ci sono, i cosiddetti layer 2, ossia delle blockchain, delle sidechain, parallele alla blockchain principale di Ethereum, sui quali è possibile effettuare delle operazioni in maniera parallela per poi trascrivere il risultato finale sulla blockchain madre di Ethereum. Ora non voglio annoiarvi troppo con l'aspetto tecnico e poi non sono uno sviluppatore, quindi potrei sicuramente dire delle castronerie. Questo è il cosiddetto sharding e questo aspetto ha portato dei grossi vantaggi a Ethereum stesso, benché probabilmente potrebbe essere solo un tamponare più che un risolvere. L'aspetto invece e probabilmente più importante a mio modo di vedere è il passaggio, la volontà di passaggio da Ethereum al cosiddetto Ethereum 2.0. Questo porterà Ethereum dal proof of work al cosiddetto proof of stake. A differenza del proof of work, il proof of stake è assolutamente green perché non c'è bisogno di una immensa potenza computazionale per dare validazione alle transazioni, ma la validità delle transazioni avviene proprio grazie alla messa a disposizione dei stessi token di Ethereum. E questo si basa su un concetto molto semplice, ossia se tu sei detentore di grossi quantitativi di Ethereum, probabilmente, anzi togliamo anche il probabilmente, lasciamo il sicuramente, sarai interessato alla blockchain di Ethereum e che la stessa vada bene, altrimenti tutti gli Ethereum che avresti con la blockchain andasse male, ti l'avresti in faccia. Questa modalità di validazione delle transazioni, oltre ad essere quindi molto più ecologica, è anche una soluzione molto più veloce. Questo, infatti, dovrebbe portare le transazioni per secondo da una decina a più di 100.000 transazioni per secondo sulla blockchain madre di Ethereum. Chiaramente questo passaggio non sarà privo di difficoltà. Sono attualmente in fase test, hanno superato brillantemente alcune fasi test e si prevede che nel secondo quarter del 2022, quindi entro giugno di quest'anno, dovrebbe essere completato questo passaggio. Per far questo, da un paio di anni a questa parte, c'è la possibilità di poter bloccare un numero minimo di 32 Ethereum sulla blockchain, i quali verranno poi utilizzati per validare le transazioni. Una volta però bloccati questi 32 Ethereum, non è possibile rientrare in possesso di questi token prima che questo passaggio sia completato. Il completamento di questo passaggio avverrà con il cosiddetto merge, ossia quando il Proof of Work e il Proof of Stake diventeranno un unico e più grande Proof of Stake. Per quanto riguarda invece il problema inflazionario del token di Ethereum, è stato rilasciato un hard fork, il cosiddetto London hard fork, durante la metà del 2021, il quale ha previsto un'istruzione aggiuntiva, il cosiddetto EEP 1559. Ho fatto anche un video molto molto tempo fa, e molto molto tempo prima, che questo aggiornamento abbia preso piede, forse sono stato anche uno dei primi in Italia, ti lascio qua sopra il link al video, quindi se vuoi vedere e approfondire questo aspetto. Ad ogni modo ti faccio un sunto. Questa implementazione ha previsto che sulla blockchain di Ethereum, durante ogni transazione, vengano bruciati parte degli Ethereum utilizzati per la stessa. Questo fa sì che più la blockchain di Ethereum venga utilizzata, più un numero maggiore di token Ethereum saranno bruciati per sempre. Questo aspetto già allo stato odierno ha portato ad una riduzione importante del tasso di inflazione anno di Ethereum, infatti si è passati da un 4,5% circa a poco più dell'1%. Quando invece verrà completato il passaggio ad Ethereum 2.0, le reward per la validazione delle transazioni saranno minori rispetto alle attuali, e quindi questo dovrebbe portare Ethereum a diventare addirittura deflazionario. Adesso che abbiamo capito tutto questo, arriviamo alle conclusioni personali e a capire il potenziale di Ethereum. Come abbiamo visto, Ethereum è stata la prima blockchain nella quale sono stati realizzati i smart contract. Da lì in poi sono state realizzate una miriade di altre blockchain, delle quali qualcuna porta una innovazione aggiuntiva, qualcuna ne porta meno, ma ad ogni modo nella sta grande maggioranza di loro c'è la possibilità di realizzare questi smart contract. E moltissimi di loro vogliono una interoperabilità con la blockchain di Ethereum, perché attualmente è la blockchain smart contract nella quale al suo interno è racchiusa la maggior liquidità. Essendo appunto la prima blockchain, abbiamo visto nel mondo moderno come il primo ha sempre di solito un vantaggio rispetto agli altri. Dato sviluppo, tantissimi sviluppatori sanno realizzare dei smart contract, delle DAP su Ethereum, conoscono il suo linguaggio cosiddetto solidity. Per quanto riguarda le altre blockchain, invece hanno o dei linguaggi propri, oppure hanno dei modi per portare le DAP da solidity alla propria blockchain, anche perché se dovessero realizzare solo esclusivamente dei propri linguaggi di programmazione, avrebbero sicuramente meno sviluppatori allo stato attuale rispetto a quelli che potrebbe avere Ethereum. Far cambiare abitudine alle persone non è cosa da poco. Questo non significa che non ci siano valide alternative, anzi ce ne sono, ce ne sono anche di molto interessanti. Il fatto poi che il token possa diventare del tutto deflazionario è sicuramente un vantaggio, parlando in termini di prezzo, anche perché è stata praticamente una delle fortune di Bitcoin, benché Bitcoin non sia deflazionario, ma la sua supply massima è ben definita e non possono essere prodotti più di 21 milioni di Bitcoin, il fatto addirittura che una blockchain possa avere un token deflattivo, quindi il cui circolante cali nel tempo, è sicuramente un aspetto da tenere seriamente in considerazione. Poi ragioniamo sul fatto che attualmente nel settore delle crypto vulte siamo davvero in pochi, senza quello che potrebbe accadere quando una marea di persone utilizzeranno la tecnologia blockchain. Quindi potrebbe essere che la percentuale di burn dei token Ethereum sarà destinata addirittura ad incrementare. Oltre a questo, quando poi ci sarà il merge, quindi questa fusione, che diventerà completamente in proof of stake, ci sarà una reward minore per i validatori e quindi in automatico anche il tasso di inflazione base si ridurrà di molto e quindi questo porterà ad uno sprint a questa riduzione dei token in circolazione. Quindi a mio modo di vedere, con il lungo termine, Ethereum andrà davvero, davvero bene. Ci saranno sempre meno Ethereum in circolazione, quindi probabilmente il valore di ogni singolo Ethereum è destinato a salire e a salire anche in maniera importante. Veniamo però adesso al breve termine. Allora, innanzitutto c'è da valutare come questo passaggio dal proof of work al proof of stake avverrà. Se avverrà senza intoppi, la fase test è andata benissimo. Sicuramente sarà diverso quando questo avverrà nella mainnet, nella blockchain principale. È sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Non dobbiamo dare per scontato che tutto filerà liscio. Probabilmente sì, ma non è sicuro al 100%, benché la fondazione di Ethereum stanno molto attenti sotto questo punto di vista. Altro aspetto proprio per un discorso di prezzo e per gli investitori più a breve termine è quello del più classico by the rumors sell the news. Solitamente quando ci sono degli eventi su una blockchain principale, il valore del token solitamente sale prima di arrivare nei giorni immediatamente precedenti all'evento per poi successivamente scendere. E questo avviene anche normalmente e spesse volte nella finanza tradizionale. In questo caso però c'è da fare un ulteriore approfondimento. Ossia che molte persone hanno questi Ethereum bloccati da quasi due anni e molti di loro hanno preso Ethereum ad un prezzo relativamente stracciato se paragonato al prezzo attuale. Questo vorrebbe portare a una fortissima pressione di vendita nei periodi immediatamente successivi al merge. È vero che la fondazione di Ethereum dice che non subito saranno rilasciati questi token non appena avverrà il merge ma probabilmente nei periodi immediatamente successivi. Ma quando questo avverrà potremmo vedere un brusco calo di prezzo di Ethereum. Quindi valuta anche questo aspetto se sei un investitore a breve termine oppure se magari non hai ancora delle posizioni su Ethereum potrebbe essere magari un ottimo momento per entrare. Come detto questi non sono consigli finanziari e non è detto che andrà così perché come al solito nessuno prevede il futuro però potrebbe essere uno scenario forse il più probabile ma probabile non significa sicuro. Lasciando poi l'aspetto geopolitico e macroeconomico che nel breve potrebbe sicuramente influire ma anche in questo caso nessuno prevede il futuro. Poi non vi aspettate che il futuro sarà sicuramente roseo prima ci saranno delle news negative ci sarà del panico il prezzo scenderà il prezzo risalirà e via dicendo. A mio modo di vedere e per il lungo termine essendo investitore di Ethereum credo di poter dormire sonni tranquilli. se questo video ti è piaciuto condividilo con altre persone lasciami un bel like e iscriviti al canale se non sei registrato. Ci vediamo al prossimo ciao buona giornata.